buongiorno sono eva e lei è la mia modella erica su di lei eseguirò la tecnica foliage con l'idimation e colorance per ottenere un effetto naturale grazie all'utilizzo di schiariture più decise e sofisticato balayage ci vediamo dopo per il risultato finale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti con il suo nuovo biondo ottenuto con la tecnica foliage per altri video seguici sui canali youtube goldwell education plus grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti